eccoci eccoci qua buonasera a tutte e a tutti eccoci in diretta con qualcuno di ritardo eccoci in diretta con videodrome appuntamento con il cinema e tutti i collegamenti fattibili possibili con la filosofia videodrome cinema e filosofia vediamo siete arrivando e andiamo ad iniziare allora o ci siete ci siete allora iniziamo per ci mancherebbe il primo è buonasera maria ciao ciao alessandro luca monzei luca un abbraccio grande grazie che sei passato stai con noi un pochettino un pochettino proprio montese fabrizio fabrizio sarà sarà grazie di veramente essere presentissima matteo elisa grazie luca stasera appuntamento dedicato ad un vero e proprio cult movie del cinema italiano questa sia ciao america un bacione questa sera parleremo del film di pupiavati film del 1976 parleremo di pupiavati del film la finestra dalle case che ridono imperdive ciao catia fra lorenzo pupiavati absol ma bu noel bu noel letter costi si si può fare ma luca la quarantena ti sta facendo diventare un affezionato di barba sofia e questo mi 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 onora mi onora va bene cominciamo con la domanda se avete fatto i compiti ok avete visto tutti ok la casa dalle finestre che ridono ok io ovviamente me lo sono rivisto tutto per peso la tre non sto scherzando profondo rosso la pista case credo siamo oltre le venti volte sono finché ho visto sicuramente una ventina di volte quindici venti volti compiti fatto fabrizio da fatti rivisto ieri per il sviluppo sei preparatissimo io l'ho visto questa mattina dovete perdere che mi sono veramente riemozionato riemozionato la sequenza anche finale quando mamma mia lui in moto moto ci ho visto in sera perfetto anche jacopo allora possiamo discutere ciao mauro morelli buonasera come visto mauro non ho il sigaro e mi stai inibendo è io posso fumare ogni tanto almeno un sigaro mauro che non non può una volta un sigaro da no proprio piacciono i film con le bam sulle bambole indemoniate il finale agghiacciante veramente il finale della del film di bubio vati è agghiacciante di una bellezza veramente agghiacciante sembro sembro Antonio Conte il film di una bellezza agghiacciante questi silenzi questa musica questi questi paesaggi sterminati ciao alberto ho visto pezzemetri oggi niente male ma quelli pezzi o caffè quale pezzemetri ce la posso fare scusate quale pezzemetri hai visto ok hai visto quello degli anni 80 anni 80 o il remake di due anni fa ah ok 85 2000 a quella di 19 era ben recitato l'unica cosa interessante ultimi qui su di coni no 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 dai dan non puoi dirmi così eh non puoi dirmi così la finestra che dalle case questa credo non puoi direttamente negli ultimi 15 minuti dai 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 no qui qui boccio boccio eh conjuring e poltergale conjuring sono e negli ultimi film eh e tra i più belli di due fifa fa fa ora anche il secondo dei conjuring mi sembra è arrivato di oggi ne ciao complimenti grazie complimenti un omaggio su un album di di landau assolutamente assolutamente buonasera 95 a 100 si inizia ascoltate qualcuno mi ha già chiesto il prossimo film prossimo film sarà alien alien di ridley scott il primo alien poi ne approfitteremo per parlare di tutta ovviamente l'almeno la tetralogia ok il prossimo film sarà eh alien ve lo annuncio di ridley scott e parleremo un po di questo orrore nello spazio profondo va bene dunque ragioneremo un po di fantascienza di fanta horror martins andrea martins per me uno dei migliori degli ultimi degli ultimi ormai sono 12 anni fa uscito degli ultimi vent'anni martin america ci sta ci stai per per ali e l'orrore per l'ignoto ne parliamo la prossima settimana che domenica c'è la domenica di pasqua ci vediamo forse lo facciamo lo facciamo un altro che di sabato di lunedì vabbè dobbiamo vedeteci d'accordo quando fare ai voi dovete vederlo ovviamente e poi dopo e poi dopo ne parliamo insieme perché sabato farò cartesio il discorso sul metodo mercoledì dovremo parlare un po dell'uomo ragno di spider man come cinema e fumetti ecco luca brussino ti stavo aspettando è senza di te non avremmo iniziato pure alien fa le uova questa è una grande battuta pure alien fa il signor diavolo si si può vederlo con l'amico perry smith che qua collegato il signor diavolo è un film ormai fuori dal tempo noi signor diavolo come sarebbe oggi la casa dalle finestre che ridono che nettamente superiore però diciamo che secondo me è un film dignitoso un sapore antico un qualcosa di visto e già già rivisto e pupia mati un po che ritorna sul suo sul suo cinema sulle sue anche però fa paura quale perry il signor diavolo si ha alcuni aspetti fa paura assolutamente meglio pasquettare o no programmi zedero l'ho trovato deludente ma zedero non dispiace a me zedero non dispiace chiaramente al cospetto della finestra dalla casa oggi continuo a dire la finestra con le case che ridono della casa dalle finestre che ridono va bene sopra i sette minuti l'attore un pezzo di legno ma allora da lino cap non mi puoi trattare così l'attore feticcio l'attore feticcio di pupia vati 90.000 iscritti sì 90.000 iscritti va bene va bene poi festeggiamo a 100.000 festeggiamo con una una live particolare in cui magari brindiamo 100 mi 10.000 su due tre mesi per arrivare a 100.000 ma festeggeremo sicuramente pupia vati non arriviamo c'è invece ho notato che filosofia live sta spaccando giovanilistico scusate ma agostino 220 persone in live aristotele 250 platore oltre 200. 103 ci siamo pupia vati la casa dalle finestre che ridono cominciò a parlare un po e poi e ne discutiamo insieme allora partiamo col dire una cosa importantissima importantissima il film del 76 va bene ed è un po il cult il capolavoro di pupi pupia vati pupia vati ragazzo uomo cresciuto ovviamente in emilia romagna è cresciuto a sasso marconi è un ragazzo durante la seconda guerra mondiale uno sfollato dunque durante i bombardamenti no abbandona la casa va in un rifugio va bene e vive in quella emilia romagna ricchissima di tradizione gotica ricchissima di america tu stai qua presente e sei di parma l'emilia romagna ricchissima di storie di fantasmi e una delle regioni ho scoperto non adesso ma leggendo uno scrittore che mi piace tantissimo usate che è del centro italia che eraldo baldini ok un autore gotio che vi presento alla fine faccia di sale romanzo bellissimo terra di nessuno malaria leggendo i libri di eraldo baldini ambientati nel centro italia ho scoperto che marche toscana emilia romagna hanno delle storie sulle streghe sulla babaiaga di turno sul babao l'uomo nero boogie man da paura ok boschi incantati boschi malefici orchi vecchiette fantasmi che passano burroni uomini neri animali caproni è impressionante il numero di favole nere ambientate nell'emilia romagna nel centro italia e questo è il punto di partenza per capire ovviamente il film la finestra dalle case credono pupiavati cresciuto in queste terre terre di favole nere terre di favole gotiche terre di uomini neri terre di streghe terre di fantasmi di un passato che non passa terre di ripieno di boschi di orchi e di appunto orrore vive e ragazzo l'antibombardamenti a seconda guerra mondiale hanno sfollato studio una famiglia comunque benestante una 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 media borghesia che per farli studiare un amante di musica suona il clarinetto ed è un musicista amico di lucio dalla e uno dei musicisti sembra anche più promettenti in realtà non gli permette questa sua passione in realtà di andare più 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 avanti di quello che avrebbe voluto sfondare nella musica ma alla fine non riesce a produrre non riesce a comporre quello che vorrebbe i suoi amici vanno avanti fondano gruppi sono cantautori e a un certo punto lo raccolti in più interviste pupiavati chiude la valigia dei sogni chiude il clarinetto chiude appunto la sua passione principe e che è la musica in rete trovate alcune interviste sono andata in settimana a vederle un po per per preparare la puntata di questa sera oltre aver visto alcune interviste presenti sui dvd speciali che ho di pupiavati sono andato ad ascoltare e ripeto qualcosa trovati in rete l'inizio della sua storia da cineasta abbandonata la la carriera musicale chiuso appunto il 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 clarinetto nella custodia pupiavati passa i suoi giornati con gli amici un giorno non va al cinema a vedere otto e mezzo di fellini e rimane folgorato esce di lì e dice io voglio fare fellini per capirci cioè non voglio fare il regista è rimasto folgorato da quell'idea di cinema da quel film che è un metafilcio un film che racconta il mondo del cinema e ne parla con gli amici e comincia dunque a scrivere che comincia a mandare anche a produttori a registi a case appunto produttrici di cinema i suoi soggetti va sui set dove appunto altri registi girano per cercare di conoscere quel mondo dunque è un cinefilo cioè e alla fine è un ragazzo che si innamora del cinema ed entra nel mondo del cinema da appassionato amante del cinema e entra dalla porta di appunto addirittura fellini regista anche questo caso dell'emilia romagna più che mai romagnolo parliamo di rimini dunque l'emilia romagna del cinema ok ha un grande maestro quello che è considerato comunque il più famoso regista italiano probabilmente non nel mondo fellini chiaramente de sica antonioni sergio leone sono i registi italiani più conosciuti del mondo è tutto rossellini fellini e antonioni ok fellini è un po il maestro del cinema considerato italiano lui se ne innamora e prende questa magia del cinema so che una polla stra abusata magia del cinema però vale per fellini l'espressione magia del cinema prende appunto ciao corrado prende prende avati bravo perri pesca la sua infanzia come fa fellini appunto e dunque fellini segna la carriera registica di pupi avati dove ambienta le sue storie cominciamo a arrivare alla casa dalle finestre che le ambienta proprio nella sua nella sua emilia romagna in questa terra vi dicevo prima di magia in questa terra di in questa terra di di racconti gotici in questa terra appunto di mistero in questa terra di favole nere ed è così che nasce questo film questo giallo horror questo diciamo giallo horror padano il giallo che è di pupi avati è una risposta anche al giallo urbano di dario argento il giallo dario argento ambiene a tutti i suoi film comunque i gialli tra torino e roma e dunque il cinema giallo horror o giallo tinte forti sanguinolente unicco grondante sangue dario argento ebbene pupi avati risponde al film di dario argento ambientando un horror giallo un giallo horror in provincia e non è il primo a farlo ne parleremo perché c'è un regista a cui diceremo una serata che lucio fulci lucio fulci ambienta un film i primi anni settanta in provincia ma che provincia nel sud italia in lucania cioè ambienta un film nella profonda provincia italiana nella provincia della superstizione dei preti dei contadini dell'ignoranza rispetto alla città laica illuminista rispetto alla città del progresso dell'industrializzazione e stiamo parlando ovviamente di non si servizia un paperino capolavoro del cinema italiano di lucio fulci non si servizia un paperino è già uscito lucio delle piume di cristallo di dario argento è gatto a nove codi lucio come di cristallo un servizio paperino quattro mosche di velluto grigio profondo rosso e poi appunto la casa dalle finestre che ridono parliamo di anni veramente d'oro per gli amanti del cinema giallo tinte forte per il giallo che va verso loro dunque non servizio paperino profondo rosso e la casa delle finestre che ridono tre capolavori del genere certamente dario argento può contare su altri almeno due capolavori ma ma a me piacciono tutti chiaramente quelli di dario argento dei gialli perché io trovo il gatto nove code a delle sequenze bellissime quelli iniziali in grado a porto a nuovo un capolavoro l'inseguimento sui tetti che fa dario argento recuperando il cinema dice è un capolavoro nel gatto a nove code esattamente con un capolavoro uccide come di cristallo metto già scorsa live con quella con quel omicidio chi uccide chi ambientato nell'atelier appunto di artistica dunque parliamo di tre grandi registi poi dario argento ha sfondato e ha incassato veramente tantissimo ha creato un marchio di fabbrica lucio fulci ha creato il suo ma lascia poi quel cinema di alta qualità per andare verso i b movie e sono oggettivamente b movie per il budget per gli attori per tanti anche grossolanerie che ci sono il cinema di lucio fulci che sono quelle grossolanerie che lo fanno amare detto per me zombie 2 di lucio fulpi è veramente un capolavoro sia nel soggetto ma poi soprattutto della regia nella storia nelle riprese e nel montaggio ok il film non si viste popperino è già andato in direzione della provincia la città è già abbandonata non è roba non è milano il luogo dell'horror va bene non è milano non è Roma non è Torino ma era già Lucania non si viste un po' per io ci torneremo poi i gialli sono urbani ok sono tutti angoli di Martino sono tutti gialli urbani cosa fa Pupiavati va in provincia e va nella provincia appunto nella provincia Natia va nella sua Emilia Romagna e decide di ammettare una storia appunto che prenderà che darà il via poi a quel genere che si chiama l'horror gotico padano l'horror padano ho scoperto appunto e lo ammetto per prendere una puntata l'ho ordinato su IBS ok il gotico padano un libro appunto che racconta un po' il cinema horror in modo di Pupiavati e ambientato appunto nella padania che geograficamente esiste il gotico padano c'è un altro libro interessante si chiama Pupiavati fa paura l'horror in cinema di Pupiavati Pupiavati cosa fa? Dice la prima Perry prende la sua infanzia prende i luoghi della sua infanzia prende appunto la Romagna prende Comacchio prende quei fiumi prende prende quel po' che si getta nell'Adriatico prende le zanzare prende la calura prende le barche prende i bar le piole i ristoranti prende il contadino il sindaco il prete il farmacista prende la provincia va bene che ha un segreto che nasconde un segreto in cui tutti sono avvolti da questo segreto e ce la racconta ce la racconta con questa telecamera che si immerge nel fiume si immerge nelle vie che passa diciamo in mezzo a quelle acque in mezzo a quelle a quelle radure una telecamera a mio avviso veramente sapiente eccezionale la telecamera la telecamera dell'arrivo ok del nostro restauratore dell'uomo delle tecniche artistiche l'uomo che ha studiato l'uomo che deve restaurare che deve prendersi cura delle belle arti di quel dipinto di quel dipinto cosa nasconde quel dipinto poi ci arriviamo chiaramente al cuore però come è rappresentato l'arrivo di un corpo estraneo la comunità chiusa la provincia chiusa tutti hanno un segreto tutti sono collegati da un filo rosso e arriva lo straniero lo straniero che arriva che romperà gli equilibri lo straniero che romperà gli equilibri di un mondo vi ripeto fatto di soggetti che hanno veramente ognuno un proprio ruolo ben chiuso ben delimitato definito come fa la provincia la provincia io sono un ragazzo di provincia sono cresciuto nell'astigiano negli anni 80 ed era ancora il farmacista il prete che devo togliere l'audio perché altrimenti da un fastidio questi rumori sono ancora cresciuto la provincia dove c'è il parroco il farmacista il notaio il geometra va bene quello che era il parrucchiere marchiati va bene nell'idee politiche in provincia quello è il democristiano il comunista il socialista nell'italia degli anni 80 più che mai la provincia era anni 60 70 ancora anni 80 era più che mai cristallizzata e pupi avanti ci racconta questa provincia cristallizzata che è uscita dalla guerra una provincia di contadini che sono anche usciti dalla povertà va bene ma che rimangono legati alla terra legati alla pesca legati appunto alla produzione agricola la partita a carte il lambrusco il vinello queste cose emergono emergono al cinema di pupi avanti ed emergono nel film la finestra casa feste che ridono in maniera veramente e esemplare vi ripeto sembra di sentire proprio gli odori sembra di sentire la calura o il fetore e e attenzione attenzione parlavamo di un aprite quella porta tubù per il la luce e rivedendo questo mattino dove tante scene orrorifiche inquietanti di di notte al buio la casa dove una delle due sorelle vive la soffitta certo ma le scene di dipinto raccrapiccianti sono alla luce c'è una luce giallastra che da veramente fastidio la luce la luce molto forte fa paura è una luce quasi che 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 annebbia ecco è una luce che rende affascinante ma desolante tutto che è una luce che mostra nulla ma mostra tutto cioè quando lui viaggia con la sua moto diciamo nel paese nessuno gli vuole aprire sequenza veramente stupenda sequenza stupenda nessuno vuole aprire un capolavoro quella sequenza tutti dietro le finestre a conservare il segreto quello viene nella luce nella luce ed è una luce che ti stordisce una luce che fa paura bene le persone chiuse nelle case e lui sovraesposto appunto alla luce veramente veramente il dovuto paralismo anche secondo me a non aprite a non aprite quella porta a non aprite quella porta ovviamente c'è la religione e andiamo ai tipi importanti c'è l'arte e la religione c'è le due passioni è un amante dell'arte della musica della pittura e il suo primo film c'è grande musica grande musica inquietante e c'è il tema dell'arte c'è la pittura c'è il puttura c'è guareschi in chiave oro si si può essere il don camillo e peppone buttati dentro il cinema dell'orrore c'è la pittura dice un amante dell'arte la pittura le terre comunque di ligabue va bene le terre di pittura le terre di musica di cibo va bene le terre delle mirvai e qua c'è la cultura e anche la cultura di quel cristianesimo cattolicesimo contadino che è il cristianesimo cattolicesimo contadino in cui è cresciuto pupiavati in cui pupiavati è stato immerso è stato educato in quella cultura lì e pupiavati ha un rapporto controverso col cattolicesimo e presenti in un'intervista lo dice una severità una serietà un bigottismo una durezza presente nel nel cattolicesimo emiliano a terra poi di comunismo di socialismo come momenti politici durissimi la famiglia cattolica l'ha voluto quasi marchiare un cattolicesimo in ottica anticomunista e questo c'è ok e questo c'è in pupiavati però c'è anche il pupiavati che ha anche molte idee di apertura un pupiavati che che vuole parlare del maligno vuole parlare anche di preti di suore violenti corrotti o di persone malsane che nascondono veramente degli orrori pupiavati che ha avuto quella cultura cattolica e pupiavati è stato profondamente lontano dal mondo della sinistra comunista e socialista è chiaro ha una ha presentato una contraddizione cioè vuole raccontare ha cresciuto con la cultura cattolica e abbraccia è un credente pubiavati dunque crede in dio pubiavati è un cattolico ma verso le gerarchie cattoliche nei confronti gerarchie cattoliche ha un rapporto chiaramente di profonda contraddizione anche di antagonismo e poi ha la voglia di raccontare il substrato non è un caso che si parla comunque di due sorelle che si fanno suore per nascondere però poi che cosa l'orrore per nascondere la violenza va bene c'è la voglia repressa anche secondo me di liberarsi di un cattolicesimo stando dentro un cattolicesimo nei film di pupiavati è chiaramente irrisolta la questione del cattolicesimo anche se lui vorrebbe risolverla nei film vuole risolvere quell'irrisolto che c'è nella sua vita e ancora nell'ultimo film il signor diavolo pupiavati torna lì torna i segreti che nasconde la chiesa torna quell'omertà presente all'interno della chiesa addirittura il signor diavolo è ambientato in prossimità delle elezioni e la chiesa non vuole che emerga un mistero che potrebbe danneggiare l'esito elettorale dunque c'è il tema del cattolicesimo irrisolto del rapporto appunto di pupiavati con la chiesa e questo è una cosa molto 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 importante non si vede un paperino nel completo distacco di genere ah non si vede un paperino assolutamente non si vede un paperino è un film che ha avuto tanto tantissimi problemi di censura perché racconta delle cose non narrabili c'è la prima scena diciamo di seduzione nei confronti di un minorenne della stupenda magnifica barbara barbara boucher deve andare appunto in tribunale lucio fulci per le accuse di 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 scene che comunque invogliavano rappresentavano mettevano in mostra appunto la i bisbigli america hai ragione e la 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 pedofilia sì c'è quella emilia romagna dietro le finestre c'è quella emilia romagna del 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 pettegolezzo dei segreti c'è quella emilia romagna appunto che si nasconde tra i campi che si nasconde nel suo mondo del suo mondo rurale va bene e dunque c'è questo tema è da sapere bene da sapere bene il tema tema assolto perché dimostra di aver usato un nano la grande lui si difende dicendo che non era un bambino ma era appunto un maggiorenne nano c'è pazzesco pazzesco è un cinema di altri tempi ovviamente dove fare cinema lo pagai molte volte sulla tua sulla tua pelle la questione della chiesa abbiamo accennato ci ritorno è chiaro ma andiamo all'arte l'altra grande questione la storia l'avete vista recuperiamo un secondo ok c'è questo quadro in una chiesa appunto in un paesino della 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 romagna che deve essere appunto restaurato di fare dei lavori arriva un un uomo appunto il mio capolichino fantasticamente interpretato anche se da un piano dice di no arriva questo uomo della città deve appunto compiere i propri studi cercare di restaurare e questo quadro è terrificante due donne che gridano rispetto a un uomo che subisce un martirio ecco martis una sorta di san sebastiano trafitto e si arriva a conoscenza di che cosa di questo pittore era il pittore delle carmi lacerate un pittore che dipingeva il dolore dipingeva il dolore della carne videodrome videodrome cinema filosofia pupiavati ci racconta il dolore della carne lancinante el riser ok va bene ci racconta la carne che si strappa cronenberg pupiavati il cinema italiano con questi registi sfonda sfonda nel mondo perché è un marchio di fabbrica perché non è un libro io ti faccio un orro un gotico un film ambientato nella provincia e quello che ti faccio vedere è questo avere un marchio di fabbrica questo un cinema giallo tinte forti e nel mondo sai con dove vedere pupiavati darvi l'argento cosa vai a vedere è chiaro e questa è una cosa importante per l'epoca e osa pupiavati vi ripeto a mettere in scena il pittore della carne il pittore del dolore va bene questo pittore è morto ok e si racconta che forse le sorelle l'avevano martoriato non si è trovato il cadavere non mai stato ma neanche il cadavere delle sorelle in realtà il film l'avete visto e se lo vedete qua si spoilerà la sorella è la signora anziana che è accudita in questa stanza ragazzi con quella luce inquadrata lei fa paura la stanza dove la sorella del pittore è coricata fa paura lei vestita di bianco cerea la luce tutto il buio attorno quando il garzone il ragazzo gli portano appunto il cibo va bene fa paura va bene è veramente un contrasto luci ombre del dio di caravaggio quell'inquadratura e l'altra sorella è il prete il prete qualcuno ha detto la scena finale quando le due sorelle ok che tutti pensano sia sparito che siano morte hanno in realtà conservato il cadavere del fratello in forma lina hanno il cadavere del fratello si apre l'armadio c'è il cadavere del fratello e loro continuano a procurare corpi ok perché il fratello possa continuare a dipingere anche se il fratello è già morto e sono loro che torturano corpi e uomini davanti al fratello questo lo fa il cinema italiano il cinema italiano la volontà la sirena sì secondo me sì è il finale di speranza la mano lo sapete l'avete letto sull'albero la mano di pupiavati è un po per mettere un punto poi poi dopo la storia come va a finire loro hanno completato il loro massacro scapperanno si ammazzeranno non importa è per blindare e chiudere un finale ma parliamo di un cinema italiano che mette in scena il pittore della carne del dolore e ci sono persone appese persone appese va bene che fine fanno fare alla maestra la maestra la maestra la donna prete è una delle leggende padane la donna prete chi era chi è una delle sorelle e il prete la scena in cui si toglie l'abito e spunta il seno da sotto l'abito dalla sotto l'abito è un capolavoro del cinema è un pugno nello stomaco e chiaro e regge perché comunque fino all'ultimo la maggior parte dei spettatori non pensa che sia una femmina capisci che magari una sorella lì non sai dove possa essere l'altra sorella ma la prima volta la maggior parte del personale attribuisce a quella a quel prete l'identità femminile e lì il prete maschio si spoglia e dice questo seno va bene le due sorelle erano ancora vive e hanno tenuto in forma lina il fratello pittore e hanno continuato a procurargli i cadaveri la maestra la maestra pupi avati cosa ci dice una maestra presente nel villaggio il paese che poi verrà sostituita perché di fatto ninfomani il cinema italiano ci vuole vedere una maestra ninfoma la maestra la maestra la maestra e per l'italia cattolica è un punto di riferimento ok stabile e la mamma maestro delle brutte secondo le tradizioni italiane la maestra la mamma la maestra no ruoli diversi ma nella cultura italiana la mamma e la maestra e la maestra fa la mamma va bene e lì invece non siamo a milano perché a milano a torino metà anni 70 femminismo libertinismo donne emancipate maestra assolutamente di collettivi ci sono ma nei piccoli paesini il mio ripeto astigiano gli anni 80 la maestra ci faceva anche religione in classe va bene la stessa che ci portava appunto alla messa e benediceva faceva venire il prete non sto scherzando bene dire la classe inizio anno e io 82 andavo a elementare perché state capendo la maestra e si è fatta tutti quei del paese ci dice pupiavati e verrà mandata via nel ribo un'altra di cui il nostro paese si innamora ma che fine fa fare pupiavati la maestra la fa legare come una vacca come un suino come un animale e loro la tagliuzzano e utilizzano il sangue come anche poi colore per dipingere cinema italiana 96 da 110 a 96 sono arrivato a parlare della maestra squartata qualcuno ci ha salutato giustamente perché siamo caduti veramente negli inferi del cinema no ma qui siamo siamo elevati qua siamo al paradiso siamo tra le sette mali c'è la maestra va bene eccoci adesso leggo un po' le cose che stai dicendo è questa cosa incredibile il ragazzo del paese ok verrà ucciso era un maniaco era anche lì l'uomo che sarà ammazzato chiaramente di 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 masturbazione cerca di violentare la maestra ma sia la maestra lui che fine fanno vengono appunto squartati ok come nei fumetti infernali assolutamente come nei fumetti infernali parliamo di gravina il grande attore italiano cosa fa fa il matto il matto l'ubriacone ed è quello che conosce la verità la verità passa per il pazzo il matto lo squilibrato il marginale chi è che detiene chi è che detiene la verità colui che beve il beone l'ubriacone perché soltanto quell'uomo lì potrebbe avere il coraggio di squarciare il velo dell'omertà il vero esiste esiste dice america la figura della maestra linfoma e questo è veramente conturbano allora io amo dario argento per me il loro argentiano fenomeno abbiamo parlato è il top profondo rosso rimane tra tutti i gialli horror diciamo il mio preferito ma i due film realmente l'ambiguo costruito dai dogmi cattolici giusto bravo per il penso che tu condividi quello che dico sto per dire dario argento è forse il numero uno in quegli anni nella telecamera nelle sequenze il dettaglio la mano gli occhi la scena dell'ascensor la scena dello specchio ma i due film conturbanti i due film immorali sono non si servizio un paperino e la casa le finestre che ridono perché non si servizio un paperino il colpevole è non ve lo dico datevelo vedere poi ne proviamo la settimana guardatevi non si servizio un paperino lucio fulci a parte che c'è una scena di pedofilia ok imbastita cioè non è pedofilia perché il pedofilia è già un ragazzo ma c'è barbara boucher che seduce un ragazzo e comunque lui attratto da questa figura femminile nell'italia dei primi anni 70 nell'italia ancora cattolicissima ok è ambientato in lucania la donna arriva da milano su c'è il paese c'è un segreto ci sono omicidi nascosti i corpi nei boschi e il colpevole non vi dico nulla qui pupiavati ci mette la maestra ninfomene due sorelle ok che dal brasilio sono tornate assassine che producono produt pro procurano cadavere il fratello pittore pittore del dolore delle carni lacerate si fa si fanno fuori sei in realtà sono un suore un prete è chiaro dunque parliamo di questa dinamica dell'orrore che questa dinamica dell'orrore per di più la maestra diceva ninfomene ammazzata il sindaco che conosce il segreto ed è corrotto ok l'uccisione della presunta strega e non si è un paperino c'è ancora questa idea della una santa inquisizione nell'italia degli anni settanta il paese no che per perché pensa che dà la colpa una donna e la considera strega e l'ammazza ok viene in mente i romanzi di loriano macchiavelli sì ma ancora di più marco eccomi qua leggete eraldo baldini terra di nessuno il ritorno della prima guerra mondiale nella pianura padana malaria e le malattie le peste la malaria appunto dell'epoca e faccia di sale gli orrori nascosti sotto ok la costruzione di una cattedrale tanta roba eraldo baldini grande scrittore italiana e questa cosa qua cioè il cinema dell'orrore italiano il cinema del 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 giallo a tinte horror ha osato dire delle cose che l'altro cinema più ingessato più abbottonato non poteva dire potevano dirgli grandi autori potevano ciao 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 e ma potevano dirgli grandi eventualmente registi in certo modo ma un cinema popolare perché il giallo è popolare perché il giallo vederlo chiunque quindi fellini antonioni no ovviamente il giallo è popolare il giallo thriller è popolare il giallo horror è popolare e nella narrazione preparata per il popolo pop tu ci metti dentro dei contenuti assolutamente che rovescia la morale il genere è del popolo giusto domenico il genere che sia la fantascienza che sia la commedia il genere del popolo mi piace sottoscrivo sottoscrivo e posso dire una cosa che morendo il cinema di genere sta morendo un po il cinema del popolo è chiaro però qua andiamo per parlare di cose molto complesse su di fatto il genere sono le serie tv perché il popolo mangia mangia questo e mangia consuma questo petri la giusta di devo fare una serata dedicata a egli o petri direi gli sono detto aglie ma poi possiamo lanciare magari la serata è indagini ma direi di sì magari un film petri volontè messi insieme lo facciamo sta morendo il cinema sta morendo il cinema ubit nascono altre cose vi ripeto però queste altre cose non hanno per me il fascino del cinema sto guardando questi giorni vabbè è divertimento la quarta stagione nella casa di carta costruiti sono finti la quarta è finta dopodiché gli attori sono bravissimi i mezzi che hanno disposizione sono elevatissimi gli inseguimenti la recitazione è tutto è tutto veramente spettacolare sublime e poi sono forbissimi un tempo cantavano bella ciao stavolta hanno cantato una canzone di battiato e giocano a calcio si innamorano il matrimonio la casa di carta quattro degli sceneggiatori bravissimi ovviamente rasentano la perfezione questi prodotti ok però però non mi turbano non mi turbano la casa di carta non mi turba vado a dirvi una cosa in più i pompini che i due maschi si fanno in elite non mi censura nessuno in elite ci sono infatti infatti le serie riprendono ci sono per due volte due pompini omosessuali in elite a me non turbano a me non turbano quanto barbara boucher con il ragazzo che li porta appunto da bere il bambino che lì capisce che sta tirando fuori tutto il suo sviluppo ormonale di colpo ok elite è bella non lo so a me a me purtroppo elite non piace prima stagione interessante ma scusate qui perri mi dà una mano mi dà una mano perri in elite non esistono i brutti i brutti in queste serie perché quello che è anche brutto è costruito come brutto ma è un figo è un figo ditemi donne con quali quasi uomini della casa di che donne se parliamo donne con uomini o donne 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 voi allora togliamo questo ditemi voi con quali non vorreste avere un'avventura il professore della casa di carta è un figo ok Helsinki è un vichingo ma è un figo anche lui per qualcuno è chiaro è berlino è il nichilista seduttore ed è bellissimo e ovviamente e vado avanti ovviamente come si chiamano gli altri e lisbona cioè la commissaria è bellissima va bene vabbè tokyo non stiamo neanche qua a parlarne nairobi non stiamo neanche qua a parlare sono tutti belli tutti andremo a letto con queste persone è chiaro tutti tutti non funziona manca l'elemento repellente manca l'elemente domani interrogazione di filosofia e tu vai e gli parli ovviamente della casa dalle finestre che ridono gli parli di che ridde la casa di carta e questa è anche filosofia questo ok è filosofia ok la casa di carta ma ripeto bei prodotti bei prodotti però ripeto manca i brutti non c'è più elemento conturbante non c'è elemento conturbante qua quando nella casa dalle finestre che ridono il prete che in realtà è una donna toglie l'abito talare toglie la tunica ed esce questo seno e conturbante dà fastidio va bene anche il fratello in in formalina ormai vabbè oggi con gli effetti speciali lo avresti fatto meglio ma l'idea del fratello tenuto tenuto nell'armadio l'idea di quelle della pittura che nasce dal dolore del corpo quello dà fastidio big band teori vabbè li libri gli scrittori scenditori sono fantasi l'italia roncino di caratteri certo ma ripeto al buco facciamo la serata speciale il buco a me è piaciuto veramente tanto però il buco poco budget regista agli inizi ok cinema di idee il buco è bello il buco il buco è bello ci facciamo una serata dedicato faccio un video ve lo posto parasite c'è il video ok sans unlimited film straordinario devo guardarlo devo guardarlo i brutti non ci sono né lì non ci sono nella casa di carta non ci sono dopodiché sono scritti bene avesse l'italia oggi la casa di carta vis a vis avesse l'italia questi prodotti chiaro l'italia a gomorra e all'immenso montalbano coi prodotti di eccellenza il resto il resto non c'è il buco lo facciamo dai il buco 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 il buco lo tratteremo lo tratteremo guardano che sarà la casa di carta guardano le prime due stagioni valgono comunque la pena perché sono ribate la storia interessante nel a laura io da donna etero nella casa di carta mi farei anche le donne io da uomo etero ti dico che mi farei maschi capito quel quel problema è il problema dove sono i brutti dove sono i brutti forse il nuovo capo della della polizia non è non è bello che ha forse lui forse lui ma la nuova anche donna che deve risolvere guida le trattative è bellissima anche lei capite tutte tutte sessualmente e tutti sessualmente attraenti ok invece sono i brutti e le persone beccele malsane e brava america andiamo in chiusura e pupiavati i brutti le persone che sono al bar al ristorante il sindaco stiamo parlando persone sgradevoli abbiamo una persona afflitta da nanismo c'è un nano un nano va bene presente nel film di pupiavati la suora appunto il prete donna è repellente va bene questa cosa qua è disturbante questa è una cosa importante allora vi recupero alcuni temi presenti nel film allora ci siamo detti allora il sindaco le suore il prete il ristorante il fiume le rane le zanzare va bene e l'ubriaco il matto il segreto c'è l'eco l'eco della guerra il cattolare gli appunti il cattolicesimo il risolto di pupiavati ok allora va a comprare il protagonista va a chiedere chi ha comprato acido muriatico e gli risponde quello della ferramenta il negozio il negozio che c'è tutto in questo negozio c'è tutto dalla ferramenta ovviamente al pane l'acido muriatico ma io ne vendo ok almeno un litro al mese a tutti gli abitanti ne fan di tutto con l'acido muriatico devono uccidere i topi pazzesco disinfestare o lanciarlo in faccia agli amanti la provincia italiana acido muriatico devono lanciare in faccia per cacciare i topi allora vi dicevo preti suore sindaco bar il fiume il vino le zanzare le rane l'ubriaco il matto il segreto perché sono i tuoi impegni che ci arriviamo capolavoro assoluto l'eco della guerra il cattolicesimo la maestra linfomane va bene il quadro e il quadro maledetto il pittore maledetto va bene la maestra linfomane l'ho detto e poi c'è l'arte che squarcia la realtà l'arte che squarcia la realtà i topi disinfettare ah su che immagina che bello eh ci stanno omologando faccia di plastica ma sì eh questo è un problema magari ci facciamo una cosa ne chiacchieriamo un po' insieme il problema del cinema di adesso un cinema di plastica ma d'altronde scusatemi avete netflix tutti più che non abbiamo netflix adesso io ho anche amazon prime video e mi sto godendo colombo colombo immenso immenso va bene e stavo notando ma ogni giorno una serie comunque una serie a settimana sempre è impossibile ma cominciò a produrre una serie a settimana è impossibile perché la narrazione richiede idee altrimenti tutto già visto e rivisto ma non è il problema il visto rivisto quello che dall'odissia e dall'ilide non c'è nulla di nuovo no no quello va benissimo lo sappiamo per fortuna abbiamo avuto questi grandi padri che ci hanno narrato Sofocle va bene Eschilo Omero perfetto dico sempre lo metterò nel mio prossimo libro o me platoni oggi sarebbe la sceneggiatore più pagato della da hollywood da net o da amazon prairie vede pure perché aveva delle idee fantastiche l'immagine incredibile brazil terry gillian proponete va bene va bene va bene saluto a tutti che cosa bisogna fare ciao dimmi tutto vuoi ascoltare la musica vuoi ascoltare la musica che cosa non ho capito l'ora la storia di sofia si certo infatti raccontare la storia mio figlio mi chiede il permesso di fare le cose sembra il padre padre padrone dell'ottocento cui figli vengono a chiedere prima di fare le cose brazil dam veramente grandissimo di dark di dark la serie su netflix non l'ho vista non l'ho vista capite netflix fa appunto una serie ogni settimana ma anche anche meno di una settimana allora le idee la qualità a un certo punto ne risentono per quanto i soldi che ha a disposizione questa piattaforma siano tendenti all'infinito va bene e le idee a un certo punto vengono meno allora bisogna anche sapere riproporre vecchie idee ma riproporle aggiungendo qualcosa di nuovo comunque di nuovo e si vede lo viene sempre abbiamo perso la fantasia con tutte le bra allora e ne ho discusso oggi con mia figlia sofia allora il problema cari amici che siete in ascolto e care amiche non è il problema che i nostri ragazzi non vogliono più leggere perché non sono più curiosi e che leggono di meno perché hanno molte più storie a disposizione io faccio parte della generazione che è cresciuta con una televisione solo ed ero in casa ed era una stanza sotto dove c'erano i miei genitori però si guardava il telegiornale e si guardava un programma la sera se io andavo in camera mia non accendevo la tv leggevo Topolino non leggevo Tolstoi o Dostoevsky a 10-12 anni Topolino però poi Jules Verne e Salgari e Stevenson e poi vai avanti e vai avanti sono cresciuto a pane, fumetti e romanzi e quando mi hanno messo a televisione in camera quella bianco nero che avevano loro quando avevo tipo 10 anni loro l'hanno presa poi a colore o forse la seconda tv perché mi non neanche non mi ricordo avevo tv bianco e nero la mettevo e cosa guardavo? c'era i 1, 2, 2, 3, va bene sì c'eravo i 5, guardavo Roland Garros mi ricordo guardavo qualche partita di calcio ok, i primi cartoni animati ok, Olly e Benji queste cose, va bene però alla fine alla fine passavo il tempo a leggere a leggere per me paperino, paperoga miti assoluti interessati interessati veramente passate a leggere i fumetti mi ricordo quando un certo avevo visto di casa traslocò e nel suo traslocare aveva un armadio ok, pieno di topolini non se li volle portare con sé e chiamò mio padre e disse non è che tuo figlio li vuole io ricordo sono al patetico vi chiedo scusa come se fosse veramente oggi quell'emozione di quell'armadio più di topolini che io ho tolto da quell'armadio ho caricato su una carriola e in due giri ho portato a casa quei mettete 150 200 topolini per un anno ok un anno e mezzo ero a posto va bene l'abbonamento dopo di un anno me lo fece l'abbonamento era la bambina più felice del mondo ho il corrierino dei piccoli mia nonna mi comprava il corrierino dei piccoli mia nonna provincia andava messa e il venerdì mi ricordo quando usciva il corrierino dei piccoli lo prendeva me lo portava a casa ma che ma che disegnatori c'erano sul corrierino dei piccoli mamma mia fantastico ora hanno troppo ovviamente ma non è per rimpiangere o per dire adesso però mia figlia è una divoratrice già di serie tv Sofia mia figlia e legge di meno però non è che non vuole storie le vuole ma Riverdale mamma mia che attori ci sono già che ragazzi ci sono che recitazione però ovviamente la lettura che è più articolata più affascinante richiede tempo un po' scema io qualcosa nel mondo dell'editoria conosco ne parlavo con l'editore qualche settimana fa i libri fino ai 12-13 anni le case editrici vendono tantissimo perché i nonni i genitori comprano libri per i bambini per i ragazzi poi da 12-13 anni in 15 crollo delle vendite si ritorna a lettori più avanti oltre 40 anni questo è un dato di fatto cosa pensa se le tv animate di oggi ne sto vedendo poche ne sto vedendo poche quali mi consigliate ci vuole il carpenter italiano e ci servirebbe veramente un carpenter italiano assolutamente eh già eh già dobbiamo trovare una sola di equilibrio l'equilibrio però lo troviamo noi noi io non mi ammazzo di serie tv ho visto la prima di Freud inguardabile per me chiuso vado va adesso devo finirla non devo finire un bel niente è chiaro va bene io guardo ogni tanto e poi scelgo l'equilibrio lo troviamo noi Westworld l'ho visto non sotto avanti l'ho visto Westworld e Watchmen sono le due serie tv che sto guardando e che mi stanno piacendo di più c'è anche un Don Johnson strepitoso in Bojack non l'ho ancora visto non l'ho ancora visto mamma mia One Piece Dragon Ball ma no non li ho visti quelli Mimì sì Mimì e Mileshiro sì poi io anche sono un uomo di pallavolo e Westworld antifilosofia dobbiamo fare un appuntamento allora siamo in chiusura siamo a un'ora di Pupiavati ok un'ora di Pupiavati il cinema il corpo tematica di Cronenberg cinema e sangue la pittura che squarcia ovviamente che squarcia la realtà l'arte che mette a nudo appunto l'orrore siamo nell'orrore diciamo padano gotico siamo in presenza dei grandi temi o anche in chiusura degli archetipi direi di Jung la madre la morte la terra va bene Dio in Pupiavati ci sono sempre gli archetipi Jungiani la madre la morte ripeto la terra la fede Dio i bambini ci sono i grandi temi proprio tipici della psicanalisi di Jung Emilio Romagna terra vi dicevo di Baba Yaga Nostrane terra di mostri di orchi terra di boogie man di uomini neri queste favole sotto un po' ricercare oggi delle cose in rete sulle favole nere padane ebbene ho scoperto che molte di queste favole dell'uomo nero che rapiva i bambini venivano raccontate almeno ancora fino agli anni 20 del novecento per far addormentare i bambini per farli intimorire per farli obbedire per farli appunto spaventare gli veniva raccontata favole veramente dell'uomo nero che rubava i bambini che dunque minacciava i bambini che arrivava a punire dunque c'è un altro mondo c'è l'altro mondo che si manifesta erano le nostre fiabe erano le nostre fiabe horror le nostre fiabe appunto gotiche le nostre favole di sangue favole e Pupi ne resta condizionato e Pupi Avati è rimasto veramente condizionato da queste favole che gli raccontarono appunto i nonni va bene Langhe Cunese ma anche noi in Piemonte ne abbiamo ne abbiamo vi ripeto e vi ho consigliato Eraldo Baldini e se vi capita leggete qualche storia di Eraldo Baldini che vi piaceranno le masche già le masche nelle nostre valli nelle valli nelle valli cunesi e Pupi Avati è colui che ha messo diciamo su pellicola questo sia la casa di carta se abbiamo parlato un po' prima magari una sera ci torniamo e ne chiacchieriamo parliamo un po' di serie allora nuovo appuntamento vi ripeto gli appuntamenti di questa settimana va beh su Instagram ma anche se voi mi seguite qui tendenzialmente penso domani sera tutto il più martedì farò una like con gli studenti per parlare di esame di stato per parlare di interrogazione didattica online mercoledì sera parleremo di Spider-Man alcune delle grandi saghe di Spider-Man una delle icone pop principali vedremo la filosofia dell'uomo ragno la filosofia di domoraglio poi 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 faremo faremo Hulk faremo l'eternauta ne faremo tanto la filosofia di Spider-Man mercoledì sera sabato prossimo invece live il discorso sul metodo di Cartesio per la rubrica i dieci libri della storia della filosofia occidentale o anche la storia della filosofia occidentale in dieci libri vi presenterò commenterò il discorso sul metodo di René Descartes e domenica o pasquetta facciamo la Pasqua a Pasqua Alien di Ridley Scott con l'immensa sublime sexy affascinante Sigourney Weaver nel ruolo del capitolo replay ok l'uomo ragno america ci siamo e c'ora Mauro ma caro Mauro la sorpresa è questa qua che appena se appena adesso schiaccerò la X io caricherò il video su Choran che ho fatto oggi pomeriggio 30 minuti per introdurre Choran e la sua celebre frase non mi perdono di essere nato buonanotte a tutti una notte inquidi horror sta attenti che boogie man che l'uomo non venga l'uomo nero non venga a prendervi vi ringrazio sempre per la presenza per l'affetto ne usciremo ne usciremo da questa fase difficilissima e ci incontreremo dal vivo continuo a ripetermelo e ripeto buonanotte a tutti grazie a tutti